La coppia di comici foggiani sbarcano nello studio di Verissimo e ricoprono la conduttrice di battute sul compagno. Pio e Amedeo ospiti a Verissimo ed è subito cacciara. Lungo la puntata di sabato 24 settembre, il duo comico Foggiano è stato, come al solito, un turbinio di aneddoti. Battute, scorrette, e risate. Da mercoledì 28 sarà in onda in prima serata su Canale 5 con Emi gratis. Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Dantini e Grieco hanno dato qualche assaggio di quel che hanno combinato in giro per il mondo tra i protagonisti del loro show Mahmood. Mike Tyson, Donna Rumma, Ronaldinho, Neymar ed Elisabetta Canalis. E naturalmente non potevano non travolgere la presentatrice di spassose stilettate in riferimento al fatto che il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi, sia il numero uno di Mediaset. Prima di snocciolare le battute sull'imprenditore televisivo milanese, il duo ha criticato una buona parte del mondo dello spettacolo. In particolare ha invitato tutti i VIP, che spesso si lamentano e dicono di essere in ansia perché oberati da pensieri e lavoro. A smetterla di piagnucolare? Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo, stress. Noi non facciamo niente. Siamo miracolati. La povera gente che lavora. Quelli lavorano davvero. Lì c'è lo stress. Ha sottolineato Amedeo. Raccogliendo il plauso della stessa Toffanin che si è detta assolutamente d'accordo. Hai ragione. Spazio poi agli esordi dei due comici che, dopo la gavetta, hanno bussato alla porta di Mediaset. Quella delle Iene. Ed hanno cominciato a farsi notare nel mondo della TV che conta. Non facevo niente. E ora mi pagano più. Pensai. Ha evidenziato ridendo Amedeo. Salvo aggiungere. Mi paga tuo marito. Berlusconi e Toffanin non si sono mai sposati. NDR. Gli ha fatto subito ecco Pio. Leva i soldi a te per darli a me. Incredibile. Silvia è scoppiata a ridere. Non toccata minimamente dalla battuta. inoltre a ottenere. Richia di Grazie a tutti Grazie a tutti